Continua a diminuire l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e si assesta intorno a 672 casi per 100.000 abitanti, quindi sempre piuttosto elevata, ma chiaramente in miglioramento, così come diminuisce anche l'indice di trasmissibilità, ovvero l'RT che scende a 0,77, quindi siamo ben al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 22,2% e al 10,4%, quindi c'è una tendenza graduale, ma continua, alla diminuzione della congestione delle strutture ospedaliere. La situazione epidemiologica è quindi in deciso miglioramento, ma i numeri rimangono piuttosto elevati e questo significa che bisogna continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza, in modo particolare a utilizzare la mascherina in ambienti chiusi e in caso di assembramento e allo stesso tempo completare il ciclo vaccinale.